è questo come 20 kg? sì 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 10 5 4 3 2 1 vai accenno destro accenno sinistro 50 stai a sinistra destra 2 lunga e subito destra 3 lunga in sinistra 3 e subito sinistra 2 20 accenno destro e subito sinistra 2 subito accenno destro 50 sinistra 3 subito destra 3 e destra 3 20 accenno sinistro 20 stai a sinistra accenno destro 20 accenno destro e subito sinistra 2 lunga vai 20 accenno sinistro subito accenno destro 20 stai a sinistra tornante destro subito destra 4 20 20 sinistra 3 subito destra 3 e subito sinistra 3 subito destra 3 subito destra 3 in sinistra 3 20 accenno destro stai a sinistra 4 stai a sinistra 4 e subito tornante destro sinistra 4 destra 4 subito sinistra 3 subito sinistra 3 lunga subito destra 3 accenno sinistro stai a sinistra destra 3 lunga in bivio sinistra 3 subito destra 3 20 sinistra 3 sinistra 3 subito destra 3 e subito destra 3 vai 10 sinistra 3 subito destra 3 in sinistra 3 e subito destra 3 in sinistra 3 vai 20 accenno destro 20, accenno sinistro e subito destra 3, sinistra 3, subito sinistra 3, vai 10, subito destra 3, lunga lunga e subito accenno sinistro, accenno destro, accenno sinistro e subito accenno sinistro, accenno destro, accenno sinistro, vai 10, destra 3 e subito sinistra 2. Vai 100, vai sinistra 2, sinistra 2, subito destra 2, subito sinistra 2 e destra 2, sinistra 2 e subito sinistra 2, 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 accenno sinistro, stai a sinistra accenno a destra sinistra sinistra 3 e destra 3 lunghe in bivio accenno sinistro, stai a sinistra destra 3, subito sinistra 3 e subito destra 3 e sinistra 3 lunga lunga sinistra 3 lunga subito destra 3 accenno sinistro, stai a destra sinistra 3 subito destra 3 lunga e subito destra 3 lunga lunga accenno sinistro, stai a sinistra destra 3 e subito sinistra 3 stai a sinistra subito destra 3 e subito sinistra 3 e subito sinistra 2 sul pavé stai a destra subito sinistra 3 sul pavé subito destra 3 subito sinistra 3 stai a sinistra destra 3 e subito sinistra 3 e subito sinistra 3 vai 50 accenno sinistro subito sinistra 3 vai 20 e stop e stop subito sinistra 3 subito sinistra 3 subito sinistra 3 subito sinistra 3 subito sinistra 4 subito sinistra 3 subito sinistra 4